What the? Ma comunque va bene come l'ho detto mo Quindi stiamo qui Vi volevo far vedere questo gioco Per provarlo insieme E vedere se eventualmente Poteva partire una serie su questo gioco Dato che comunque dobbiamo far partire Almeno una nuova serie sul nostro canale Allora, avviamo immediatamente Una partita Una nuova partita su questo gioco Questo gioco è un live arcade Ultimamente è uscito anche per PC L'ho provato anche per PC Però ha dei problemi Questa versione che state vedendo La sto registrando su Xbox 360 È la versione demo Quindi non è il gioco completo Quindi voglio vedere se vi piace Se vi potrebbe piacere Se non vi piace Ovviamente mi raccomando Se vorreste vedere una serie su questo videogioco Lasciate il mi piace Se non la volete vedere Non la lasciate Cioè nel senso Oppure lasciatelo Però scrivetemi sotto i commenti Ciccio per me non la continuare Allora Intanto dobbiamo Aiutare immediatamente Il nostro amico Tocci tua Mori Bastardo Mori Morire tutti Oh Mio Dio Sì Sto tutto bene Ok 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 Questi si dicono Che sono cannibali Questi sono zombie ragazzi Sono zombie Praticamente questo qua È un gioco Diciamo avventura Zombie Tipo Warzee O Quella roba là Solamente che è un arcade Dovrebbe essere divertente Almeno io credo Cioè A me pare A me pare divertente Poi non so la storia Perché qua Dobbiamo Mettere in salvo Gli altri Soprestiti Insomma Dobbiamo fare un po' di cosette Andiamo avanti È pieno di zombie Pieno 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 Vedete qua Gente che mangia Altre gente Vieni qua Bastardo Non sei altro Muori Bastardo Bastardo Vieni qua Andiamo via Allora C'è così Con bici Accucciamo E facciamo piano Mamma mia Ma qua davanti Che hanno fatto Un macello Premi il tasto 2 Per aprire il diario E rivedere la domagina 20 Cosa che ti succede Andiamo piano Andiamo molto piano Cioè Vedete così Non ci vedono Mio dio Ma che cosa hanno fatto No Ma sa che mi hanno visto uguale Eh Allora funziona Ma Perché Ma perché Tutta stia volenza Va bene Va bene E allora morite tutti E allora dovete morire Oh E vieni qua Vieni qua Mortacci Detta i mortacci E andiamo Speriamo che voi Leggiate bene I sottotitoli Almeno spero che li leggiate Io spero davvero Tanto di sì Dobbiamo andare Qui sopra Allora Qui sopra Passiamo per di qua Vedete La barra sinistra C'abbiamo la barra della fame C'abbiamo la barra Che si stanca C'abbiamo Un bel po' di cose È un gioco molto completo Comunque Sotto questo Questo fatto Andiamo qua Ranger Station Vediamo un po' eh Y per aprire Yuhuu Man Can anybody tell me What the hell Is going on What's going on Is there's more Of them up here Than I expected We need to sweep The rest of the cabins For survivors But I've got injured People here I have to tend to Ok 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 We'll see what we can do We will I appreciate it There's a water tower out back That has a good view of the campgrounds Might be worth your while That climb up there And have a look around first Va bene We've got some supplies In the locker over there Take what you need And stay safe out there Ok Perfetto Al sicuro per ora Abbiamo sbloccato Eeeh Ah ok Devo sbloccare il gioco completo Per riceverlo Grazie Sarebbe sicuramente un obiettivo Quindi mi dicono Di vedere qua Che cosa E qua non c'è niente Armerietto di provviste Che mi avete dato Non c'è una minchia Ah no Supporto per assi Questo me lo prendo Questo me lo prendo Ci abbiamo delle medicine E non ci abbiamo nient'altro Ok Allora mi hanno detto Di andare Ci hanno detto Di andare Ah che poi tra l'altro Qui vedete Posso anche Possiamo anche Barricarci meglio Cioè lui tira qualche martellata E si mettono delle assi Sulla Sulla finestra Io non so come Può andare avanti Questo gioco Ci sarebbe da provarlo Ci sarebbe da provarlo Veramente Allora Usciamo da qua Che non è Aspettare Intanto mi devo Un attimo Facciamo opzioni Impostazioni E mi devo mettere Almeno la sensibilità Al controller a uno Perché se no No Stai calmo Stai calmo Usciamo per di qua Ti togli Oh Andiamo via Andiamo via Dobbiamo andarcene per di qua Andiamo 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 Mi hanno detto Di andare Ok ma perché Tutta sta violenza Ok andiamo Mi hanno Mi hanno detto Andiamo E andiamo Andiamo Tanto Eh Eh perché magari Non c'è un ospedale Brutto Imbecille Ok Dobbiamo esaminare Anche le baracche Vieni qua Vieni qua Vieni qua Bastardo 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 Oh Questo Oh Oh mortacci Ma come ti permetti Mortacci tua Ma Mori Bastardo Ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo Ok Allora Quando le porte Non si aprono Vedete sono bloccate Possiamo forzarla Facciamo un po' di casino Eh però Comunque Le forziamo Oh Così possiamo Vedete anche Cercare Dentro Eh Le borse Se c'è qualcosa Che ci può interessare Se facciamo Con lb Frulliamo più velocemente Però facendo Uh Però facendo così Attiriamo gli zombie Perché facciamo casino Quindi io Per il momento Zitto Zitto Frugherei Tranquillamente Vai qua Vai su Prendiamo Che ho trovato Mi sembravano supposte Eh Pistole e revolvere Vabbè Abbiamo trovato Dei fucili Delle cartucce Meglio di niente Ok Usciamo subito da qua Usciamo 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 Dobbiamo andare a quest'altra Ma qui Mamma mia E' pieno Qui veramente Oh Mamma mia Che ho fatto Mamma mia Che ho fatto Bello C'è Sa questo Che Ah poi tra l'altro Possiamo pure cambiare personaggio Adesso io non mi ricordo Come si fa Ah vedete Possiamo fare così Possiamo fare così E cambiare personaggio Possiamo utilizzare Una marea Di personaggi Questa forse E' una cosa positiva Ovviamente Io voglio Sapere Che cosa ne pensate Anche voi Di questo gioco Vieni qua Olle Bastardo Vai Qua Non c'è sta niente Qua qualcosa c'è Vabbè io vado veloce Vedete Medicine Perfetto Qui che abbiamo C'è altro No Qua non c'è altro Andiamo via C'è uno Zombaccio Zombie Vieni qua Vieni qua Bastardo Che non c'è altro Muori Muori E' quanto ci vogliamo Per farlo morire Porco due Allora dobbiamo Assolutamente Andare per di qua Andiamo per di qua Vediamo un po' La mappa Eccola E' questa qua Dove dobbiamo andare Spari in lontananza Scopi da dove arrivano i spari Ma non dovevamo andare Alla cisterna Vediamo eh Ah no Torre d'Itica Sali sulla torre d'Itica Andiamo Dobbiamo andarcene per di qua Andiamo 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 Sulla torre Vai velocemente Che poi tra l'altro Vedete il personaggio Si stanca Ci stanno gli zombie Che ci corrono dietro Ma io Me ne fotto Io me ne fotto Degli zombie Scavalco E me ne vado subito sopra Andiamo 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 Consiglio Mangia uno snack Per aumentare la resistenza temporanea No va bene Per il momento Non voglio mangiarmi snack Vai saliamo sulla torre Non so ragazzi Io lascio A decidere a voi Lascio decidere a voi Su questo gioco Lascio completamente Deciderà a voi Dobbiamo vedere se poi LT per ispezionare Ah ok Ispezione in corso Ah vedete Là mi fa Veicolo Forniture industriali Che non mi sembra male Ma sto mongoloide Sempre qua Deve sta Poi che ci abbiamo Un accampamento Un altro accampamento Baida L'abbiamo fatta Quella che cos'è Un'altra baida Perché qua dobbiamo anche Cercare i rifornimenti Bagno pubblico E beh sicuramente Troveremo Dalla cartigienica Là Vediamo Accampamento Accampamento Eh ma Stai parecchi Accampamenti Ok E qui Facciamo continua Perché sennò Ci avrebbe sbloccato Un obiettivo Ok E abbiamo fatto Possiamo anche riscendere Scendi Scendi Sì ma non insieme Va bene Sì Va bene Sì D'accordo Ah Ok Ok Va bene Va bene così Consiglio Ok Adesso Se noi andiamo per di qua Vediamo un po' Che mi dicono Stato casa Morale Il morale è un po' giù Devo dire Il morale è un po' giù Allora vediamo un po' la mappa Devo andare a vedere Che cosa succede Gli spari in lontananza Andiamo a vedere Che cosa succede Sugli spari in lontananza Sono molto curioso Molto Molto curioso Andiamo a vedere Andiamo 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 Vai Apre Apre Porta Allora Mi sa che qua però È una bella spacchinata Che nel mentre noi Sicuramente Vediamo di Vedere Se riusciamo a trovare Qualche Risorsa Importante Infatti Io me ne vado Dentro a sta tenda Di campeggio Vediamo un po' eh Me ne vado qua Con molta calma Mentre Dentro E c'è un cadavere Anzi forse due Vabbè questi chiacchierano Tanto Vai Cerchiamo piano Non mi va di attirare Assolutamente un'orda di zombie Vai cerca Vediamo che troviamo eh Che abbiamo trovato Medicinali Vabbè Infatti io me lo vorrei prendere Un me Non fare così Ok Abbiamo preso degli antidolorifici Ah vedete Posso pure vedere qua Vedi 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 Pure all'esterno Possiamo controllare Quello che c'è Però dai Quanto cazzo ci vuole A controllare dentro Uno zaino Mo Va bene tutto ma Doppietta Hai fatto bene a controllare Ti voglio bene amico Allora intanto Mettiamoci qualcosa di più Potente Io mi voglio mettere questa Chiodi per assi Chiodi arrucciniti Sono le ciglielcine Sulla torta Perfetto Quindi ci siamo anche Un po' potenziati Vai verso gli spari Qua continuano a sparare Va bene Andiamo verso gli spari Qua non è che casco No Ok Sì Ode Casco perfetto Andiamo 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 Chi è chi è chi è Chi è Oh Qua picchiano Qua picchiano Quanti sono Quanti sono Vieni qua Vieni qua Vieni qua Mortacci vostra Lasciatela sta Oddio quanti sono Pensa che sono tantini Boom Bella lì Spara 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 Sì però no Non noi No posso anche evitare volendo Ma devo impararmi ovviamente A giocare Mi occhio che casino Ma vieni qua Mori Bastardo che non sei altro Ho salvato Maya Una bella giornata Allora le opportunità di missione Mi dice di ritornare Alla baida Noi ci ritorneremo Noi ci ritorneremo Andiamo e voglio usare Vorrei usare Sempre lo stesso giocatore No Stai calmo Vieni Intanto loro se la chiacchierano Andiamo alla baida Che tra l'altro Mi devo fare tutto a piedi Devo andarmene per di qua Forse Eh sì perché la strada fa così Andiamo ragazzi Andiamo Verso la baida Dove stanno i ranger Power Ranger Lost Galaxy Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì sta un altro, qui vedete ci sta un'altra capannetta, io non so se qua l'ho ispezionato, no assolutamente no, quindi vediamo un po', ci sta qualcosa? yuhuu mi sa che non c'è niente risorse non c'è una mazza allora vediamo eh, ci abbiamo forse qualcosa non lo so, questo gioco a me sembrerebbe piacere ma non so se vi appassiona anche a voi ora vediamo, abbiamo trovato un oggetto più grande quindi mettiamo gli oggetti e facciamo equipaggia così me ne ha dato di più abbiamo uno zaino un po' più grandicello e beh, mica male, mica male possiamo portarci più roba, andiamo, corri corri come il vento, bullseye o john, non lo so andiamo avanti qui, ok, ogni tanto si trova qualche zombie incattivito l'ergio, vieni qua, bastardo che non sei altro vieni qua, cattivo, cattivo oh, e quanto cavolo ci vuole oh, mi sta, poi mi stanco subito quindi, andiamoci ne per di qua vai, vai così dai, è distrutto è distrutto prendiamoci un antidolorifico che mi sa che stiamo un po' meglio perfetto, questa è la baita e andiamo dentro la baita vai vediamo che succede oh, porca puttana è successa una strage tutti morti nooo ma che è davvero eh certo vediamo se ha un portafoglio così glielo inculiamo ah, e vabbè non ti arrabbiare scusami oh oh porca puttana ma non rimanete fermi no, rimanete fermo eh, eccomi porco due porco ah, perché loro ancora non sanno degli zoo vabbè, ho capito ok ragazzi io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui fatemi sapere se il gioco vi interessa fatemelo sapere nei commenti non lo so comunque può rimanere tranquillamente un gameplay così fatto per vedere questo gioco o potrebbe diventare una serie questo dipenderà moltissimo moltissimo da voi fatemi sapere se vi può piacere pollicione in su commentate condividete al prossimo appuntamento con il vostro dicio che per 89 ciao io gliene lancio un altro di dollaro tanto finché sono dollari ma chi se ne ah come sei bella per far piovere soldi stiamo carmi stiamo carmi adesso si che ci siamo bella signorina ciao cara vai un altro dollaro ah ciao cara ti piace facciamo cascare una marea di soldi ma chi